Buongiorno, buonasera a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vorrei parlarvi del capitolo 1083 di One Piece, spiegare cosa è successo e teorizzare qualcosa su di esso. Allora, immaginate questo capitolo come se fosse una miccia accesa, ed immaginate il prossimo come se fosse una bomba, che naturalmente esploderà. Sempre se il buono Oda non ci tagli tutto improvvisamente, ma penso che non lo farà. Ma ovviamente andiamo con ordine, non perdiamo altro tempo e iniziamo subito. Il 1083 è una boccata d'aria fresca per noi fans che aspettavamo da anni che il Magaga ci facesse vedere quel fatidico evento, ma il tutto finisce come se fosse stato troncato di netto. Ma andiamo con calma, il capitolo si apre da dove si era interrotto l'ultima volta, ossia vediamo Sabo, Ivankov e Dragon all'interno del castello sull'isola di Kamabaka, dove discutono di ciò che accade a Riverie e nel mondo. A quanto pare, Sabo e compagni avevano tre missioni da fare, e sono riusciti a portare a compimento tutte e tre. Che sarebbero? Uno, dichiarare guerra ai draghi celesti distruggendo il loro simbolo, che è praticamente una zampa di drago, il cosiddetto drago cavalcacieli. Due, liberare Kuma è il maggior numero di schiavi che potevano. Tre, distruggere il magazzino delle riserve di cibo dei nobili mondiali. Quindi, a rigor di logica, tutto è avvenuto fin nei minimi dettagli. Ed infatti Ivankov afferma che nonostante la terra sacra sia impenetrabile perché si trova lì in cima, anche se Sabo e gli altri comandanti si sono intrufolati a marigio come se niente fosse, sono riusciti pure a fuggire. Infatti penso che con il potere di Morley possano entrare nella terra santa proprio easy. Ma tralasciando ciò, alla fine i rivoluzionari vogliono sfinire i nobili mondiali, lasciandoli senza cibare e a farli disperare dalla fame. Come d'altronde fanno loro con altre popolazioni mondiali. Oda, a quanto pare, ha voluto usare un metodo che veniva usato in passato durante gli assedi dei castelli impenetrabili. Cioè, chi assediava questi castelli, non riuscendo ad entrare in quest'ultimi, impedivano che le scorte alimentare entrassero nei castelli, portando chi si trova all'interno allo sfinimento forzato. Tattica semplice, ma allo stesso tempo geniale. Ma tornando al capitolo, Dragon ci rivela che ben 12 nazioni hanno iniziato la rivolta, ma solo 8 di esse sono riuscite nell'intento, per cui le altre 4, a quanto pare, il governo è riuscito a spegnere le fiamme della rivolta. Ma delle 8 nazioni che sono riuscite a rivoltarsi, una di esse è scomparsa, che sarebbe l'ulusia. Ma le 7 rimaste non devordono ed hanno anche rifiutato di continuare a pagare il tributo celeste. Inoltre, queste 12 nazioni sono quelle dove i rivoluzionari avevano più influenza. Ma questa è solo una scintilla della vera e propria rivoluzione mondiale, perché penso che il mondo intero si rivolterà contro il governo, dopo aver scoperto la verità dietro a quei 100 anni bui. Dico ciò perché sono sicuro che la verità dietro al governo verrà rivelata sul giornale di Morgans. Per questo Oda sta dando tanto potere all'Albatross. O almeno è questo ciò che io ipotizzo. Fermi, fermi, ma come è possibile che la percentuale di chi vede i miei video e non si scrive aumenti? Dai gente, facciamola scendere a meno del 50%. Iscrivetevi, è un semplice click per voi ma una gigantesca mano per me. Vi ringrazio. Tornando al 1083, durante la discussione dei tre rivoluzionari, Dragon afferma che se scendessero in campo i cosiddetti Cavalieri degli Dei sarebbe un guaio. E mentre lo dice ha una faccia super seria, quindi li teme. Ed Oda a furbetto ci mostra le silhouette di tali personaggi ed ovviamente dobbiamo fermarci per parlarne approfonditamente. I Cavalieri degli Dei vennero nominati per la prima volta da Kainu nel capitolo 1054. E penso che l'autore l'abbia inseriti perché la CP0 è effettivamente molto debole. Quindi aveva bisogno di un gruppo estremamente potente. E se Dragon li teme, devono essere molto forti. In passato aveva associato i Cavalieri degli Dei ai Cavalieri dell'Apocalisse. Che nella Bibbia si dice che appariranno solo quando arriverà la fine. E dato che stiamo nella saga finale di One Piece, penso che il parallelismo ci sia tutto. Ma parliamo delle silhouette di questi misteriosi personaggi. Quello a sinistra sembra indossare un cappello da cowboy. Noi abbiamo visto due personaggi con quel cappello. Ossia Yorkie e Saber. Ma essendo un ombra non si capisce benissimo. Poi la figura di sotto sembrerebbe essere una donna. Infatti intravedo dei capelli lunghi. Di fianco c'è un personaggio che sembrerebbe possedere due piccole corna. Che sono simili a quelle che possiede Moria. Al centro troviamo quello che tutti voi pensate che sia Shanks. Ma se vedete la spada del cavaliere è più piccola. Ed ha la guardia diversa. Poi qui potete vedere la silhouette del russo. Sono simili sì ma non uguali. Poi possiamo farci tutte le pippe mentali che vogliamo. Cioè che quello sia un clone, un sosia o un discendente dei Firland. Ma io penso che non sia Shanks. Perché i Cavalieri degli Dei a quanto pare sono conosciuti. E quindi sanno chi c'è al loro interno. E non penso che ci sia il russo. Se no perché è entrato a Marigio a tutto camuffato. E si è intrufolato nella stanza dei Gorosei. Continuando dietro al fake Shanks vediamo un tizio alto. Forse un braccialunghe o gambe lunghe. Di fianco a quest'ultimo c'è un altro tizio. Ma di grossa statura. Che indossa qualcosa in testa. A forma di corona. Non si capisce bene. E poi altri personaggi che sono davvero impossibili da analizzare. Fatto sta che sono davvero curioso di vederli. Io naturalmente spero che siano tutti nuovi personaggi. O almeno se ci fosse qualche riciclo. Spero sia stato fatto bene e che abbia un senso. A livello di potenza sinceramente non saprei dove inserirli. Sicuro più della CP0. E ipotizzando che Dragon sia uno dei personaggi più potenti del manga. E vedendo la faccia che fa mentre parla di questi individui. Potrei dire che sia lo superiore almeno ai primi comandanti degli imperatori. Ma andiamo avanti o davvero non finiamo più. Comunque sia Sabo viene acclamato così tanto perché ha ucciso Cobra. E ha dato via alle rivolte. Nonostante però il fratello di Rufino piaccia quel soprannome. E a discapito della morte del re di Arabasta. Si terrà stretto a quella diceria. Per alimentare le fiamme della rivoluzione. Ma finalmente vediamo quel maledetto giornale che fece impallidire tutti i conoscenti di Sabo. Infatti ci viene mostrata proprio una foto dove vediamo Sabo in piedi vicino alla salma senza vita di Cobra. Quindi questa è una prova inconfutabile per il mondo. E Sabo ovviamente inizia a raccontare ciò che accadde a Riveri di quell'anno. Ed inizia il flashback. E torniamo a più di un mese prima. E qui finalmente scopriamo il frutto di Karasu. Egli ha infatti ammaggiato il frutto Susu Susu. Che lo ha reso un uomo fuligine. Mai avrei pensato a questo frutto sono sincero. Ma che tipologia di frutto si tratta? Io penso sia un roja. Perché la fuligine si forma anche naturalmente. Soprattutto quando gli alberi vengono bruciati. E' tipo una fusione tra polvere e cenere se così vogliamo dire. Ed io credo che sia veramente OP. Poi combatte contro il fuggitore e nello stesso tempo libera gli schiavi. Pazzisco. Dall'altra parte invece è Morley a sfidare Aramaki. Detto anche testa di broccoli. Lindbergh invece fa casino qua e là liberando schiavi. Però c'è da dire che nonostante i rivoluzionari siano molto potenti. I due ammiragli sono un po' limitati. Dato che non possono scatenarsi al massimo. O distruggerebbero Mari Joa. Ma i rivoluzionari non sono da buttare. E lo affermano tutti i CP9 che ora sono diventati i CP0. Super scontata la fine che hanno fatto. Ma in tutto ciò Sabo che sta facendo? Egli è entrato nel castello Pangea. E sta seguendo Charles e padre per liberare Kuma. Ed insieme a lui di nascosto c'è anche Bonnie. Nello stesso momento però in un'altra zona. Vivi rifiuta le difese di Luci. E nel medesimo istante da un'altra parte del castello. Cobra entra nella stanza dove ci sono i Gorosei. Da solo. E il capitolo finisce qui. Vi giuro quando è finito il capitolo ho subito intuito che Oda ha dovuto tagliare lì. Per colpa delle pagine contate che verranno pubblicate sullo Shonen Jump. Inoltre sappiamo che Sabo si troverà vicino al corpo morto di Cobra. E durante la distruzione di Lusia Sabo era un po' malconcio. Come abbiamo visto anche in questo capitolo. E sappiamo che ha visto him. Ora dobbiamo riuscire a collegare tutto. Sabo riuscirà a salvare Kuma. Con l'aiuto di Bonnie. E verrà lanciato nel buco che farà Morley. La figlia penso che verrà salvata da Sabo. Durante la fuga probabilmente si troverà nella stanza dove ci sono i Gorosei. Ed assisterà all'uccisione del re. Se vedete nella foto ha la sua arma in mano. Quindi è pronto per combattere con chi ha fatto fuori Cobra. Che secondo me o è stato un Gorosei o i Cavalieri degli Dei. Perché in tutto ciò Sabo deve vedere anche il re del mondo. E penso che l'abbia visto in faccia. Quindi dovrebbe dirci se è un uomo o una donna. Forse è successo o durante il suo scontro o durante la sua fuga. Inoltre guardate il pavimento nella foto. Non è uguale a quello della stanza dei Gorosei. Cioè che cavolo è successo. E come possiamo notare Sabo non ha lottato contro gli ammiragli. Poi Chaka e Pell che fine hanno fatto. La nave di Cobra si trova ancora lì. Saranno morti? Chissà. Spero solo che nel prossimo capitolo Oda non ci mostri i GED. Perché dopo anni io voglio sapere tutto. Ma chi vivrà vedrà. Prima di chiudere il video vorrei dirvi che è iniziata una collaborazione con Red Hawk. Dove potete acquistare i poster da ricercato di One Piece a prezzi stracciati. Ed usando il mio codice Goon otterrete il 10% di sconto. Quindi approfittatene. Trovate il link un po' dappertutto. Ovviamente fatemi sapere cosa ne pensate di questo capitolo e del video. Non vi dimenticate di entrare nel canale Telegram di One Piece Unity. Date uno sguardo al video uscito sul secondo canale. E noi ci sentiamo come sempre in un prossimo video. Ciao.